Un weekend di furti è stato quello appena trascorso, presi di mira due luoghi suggestivi dell'isola, il primo a Portoferraio e il secondo a Marciana Marina. Derubata dell'illuminazione notturna la chiesa di Santo Stefano alle Trane, in quello che più di un furto è il sapore di un gesto irriverente, non più tardi di venerdì scomparsi dal piazzale Belvedere nel comune marinese ben 19 alberi piantati per volere della giunta comunale per ciascun nuovo nato. Nel primo caso si tratta di certo di un furto insolito che però ha colpito la popolazione. Qualcuno che non voglio descrivere, dice un parrocchiano, ha rubato l'illuminazione della chiesa. Il fatto non è grave in assoluto, ma è sicuramente importante per noi parrocchiani. Oltre al danno economico per il non certo grasso bilancio parrocchiale, si tratta di un danno affettivo perché dava un senso di appartenenza e vicinanza allo spirito, il vedere la sera e la notte la nostra chiesa illuminata. Sconcerto anche a Marciana Marina per la sparizione dei 19 alberi che erano stati piantati per il volere della giunta comunale per ciascun nuovo nato nel comune. Gli alberi dell'altezza di circa un metro e mezzo ciascuno portavano con sé una targhetta con su inciso il nome del bambino a cui era stato dedicato dopo la sua nascita. Un atto ignobile, ha sottolineato il sindaco di Marciana Marina Andrea Ciumei. Un atto che si commenta da solo in qualità di primo cittadino, ha proseguito Ciumei, chiedo a tutti coloro che avessero visto, notato qualcosa in merito all'accaduto, di volerlo comunicare alle autorità competenti, gesti come questi devono essere perseguiti.